siamo in un altro bellissimo condominio a monza la parte esterna del piazzale è veramente spettacolare è stata realizzata con un gioco di almeno due fontane creato oltretutto da un artista di fama internazionale comprendete come in questa porzione sia non solo complesso è difficile capire dove vengono generate le infiltrazioni ma ogni tipo di attività oltre essere molto invasiva e complessa non potrà comunque garantire il risultato sperato e per questo motivo che anche in zone così particolari dove ci sono delle grate ci sono le fontane ci sono una serie i punti di risvolto molto delicati la resina idrorattiva che interviene dal basso può rappresentare una soluzione alternativa veramente molto molto importante